Oh Giorgia, guarda che figata di foto che ti ho fatto con uno 0.95. Papà, con il mio cellulare faccio foto migliori delle tue. Ma, ma, ma papà SPACCA! Eh sì ragazzi, quanto farabbia a noi fotografi vedere che il nostro lavoro viene sminuito, ma ovviamente per ridere per avermi trasformato in un Hulk. E in realtà è un'idea a regalo per voi. Quella grafica la potete trovare su delle tazze, su delle t-shirt, t-shirt a manica lunga e felpe col cappuccio, nel link qui sotto, sotto ognuno dei miei video. E con questo inizio è una bella sfidza di idee a regalo per voi. Perché in fondo potreste regalare o regalarvi il mio libro, sai perché le tue foto fanno schifo e non fatevi spaventare del titolo? Oppure potreste fare anche un'idea regalo davvero, a fini di beneficenza, andando a comprare una di queste foto, ci stanno anche altre tre proposte, ognuna delle quali farà avere 5 euro a beneficenza all'associazione Sermit. Quindi con questo diamo il via a questo diciannovesimo episodio di Fuori dalle scatole, dedicato alle idee. Regalo, siamo pronti? No, prima devi metterti questa. Ok, adesso sì che siamo pronti. Iniziamo con il classico coltellino della Nextool. Io possiedo il fratello maggiore, sì, è davvero notevole. Lui è il mio compagno di lavoro, ce l'utilizzo proprio nel mio lavoro principale di informatico, c'è di tutto, da delle ottime pinze, seghetto con cui ci ho tagliato dei corrugati, davvero ci si fa tutto. Ma noi prendiamo la lama per aprire la sua plastichina. Ecco qui la confezione finalmente apribile. In situazione ci stanno anche dei sali dissiccanti strano abbinati con un prodotto non di elettronica, però tant'è. C'è anche un libricino delle istruzioni che sembra il bugiardino dei farmaci, che è in lingua orientale da una parte e quindi, come di logica, in lingua inglese dall'altra, e qui avete già un'anteprima di tutte quelle che sono le sue funzioni, ma noi le andiamo a vedere dal vivo. Bellissima questa colorazione. È una colorazione kaki, come il frutto ovviamente. Qui c'è il gancino per andare ad appenderlo. Questo dovrebbe essere lo sblocco della lama principale. Sì, perché sono tutti bloccati. Questa è la parte per tagliare con altri elementi e la lama si blocca, quindi va tirata per essere sbloccata. Quindi di qua sarà la lama principale, bella, la lama, che è affilata in un verso. Bello che c'è lo sblocco per tutte le funzioni e tutti gli altri con l'unghietta. Ah, queste carinissime sono, quello che penso io? Sì, delle forbici. Iniziamo a fare un po' qualche prova. Prova con le forbici. Sì, ottime, davvero. E anche le forbici sono bloccate se tutti i singoli elementi, bello come poi si appiattisce, sono bloccati. Se io voglio riprovare la lama, come va la lama? Come taglio? Wow, ragazzi. Davvero wow. Si riconferma la qualità di questa azienda. Un po' scomodo però raggiungere alcuni componenti. C'è sempre a prendere da questa lette. Questo qui dovrebbe essere un apriscatole. Sì. Il cacciavite piatto, la limetta per le unghie e il cacciavite di quello tipo Philips, quelli a croce. Quindi se provo ad aprire tutte le parti, uno, due, tre, quattro, ok. Abbiamo sei elementi, ma la cosa che apprezzo di più è che comunque poi è bloccato. Non ti si va a richiudere sulla mano, che sarebbe la cosa pericolosa. E come abbiamo visto, il filo è assolutamente promosso. Lui è della NexTool, si chiama Nauxiu, ha un nome stranissimo. Costa al momento che vi sto registrando 12,90€ un nulla. È una cosa da fare davvero everyday carry, portare sempre con noi. Come sempre, se vi interessa, link in descrizione. Ragazzi, devo farvi vedere due dettagli che mi hanno sfuggiti. Qui c'è anche lo spillino, quello per estrarre le sim dei cellulari. E questa parte qui, sagomata quadrata, a cosa serve ragazzi? Non ci credete. Io prendo il mio cellulare ed eccolo. diventa uno stand per utilizzarlo praticamente sia in orizzontale, sia ragazzi in verticale. È davvero una cosa folle. Per me il mio cortellino portabile mai visto. Apriamo due cose insieme che ho preso per avere un set da viaggio. Probabilmente ne stiamo guardando questo video e sono già in viaggio, tra l'altro. Un alimentatore da viaggio con la tecnologia GAN, quella nitruro di gallio, che permette di avere un alimentatore potente, ma che non scaldi e soprattutto non sia troppo ingombrante e pesante. E insieme un cavo di quelli sia dati, cosa che per me è interessante per scaricare magari le riprese fatte del cellulare, sia ovviamente di ricarica, ma spiralato. Quindi rimane compatto, ma esteso al massimo dovrebbe essere da due metri. Iniziamo con, poi l'avevo visto, fighissimo Zendure, non so come si pronuncia, che ha una correlazione fighissima, cangiante tra questo violetta e questo rosa, con ovviamente tutti gli adattatori, quindi sia la spina classica, quella nostra europea, fighissima, anche il meccanismo, ve lo faccio rivedere perché vale la pena. Sembrano davvero i Transformers, sia quelle per le altre nazioni. Ah, questa era da togliere prima, che avvisa che bisogna premere e poi spingere, ma l'avevo già capito distinto. E qui l'altro tipo che si devono poter anche inclinare. Quindi abbiamo da una parte tutte le spine maschio e di qua lo stesso tutte le prese femmina. Ma la cosa interessante ce l'abbiamo qui, abbiamo anche le uscite USB e possiamo alimentare ben quattro dispositivi, uno su USB, scusate, tre USB di tipo C e uno su USB di tipo B, non lo stavo dicendo, tutto bene. In dotazione c'è anche una bustina morbida, personalizzata, Zendure e le istruzioni giustamente complete, con tanta roba, che spiega bene, ah, con dei adesivi, oh, dei adesivi. Quindi, enjoy the ride, winter camp, business, on foot, camping, go camping, carino. Cioè, un'attenzione anche alla user experience, questo qui è la garanzia, ci interessa tanto quanto. Queste sono le istruzioni vere e proprie, che sono in lingua inglese, e indoviniamo un po', in... no, no, è tutto in multilingua, stoccaggio è un luogo fresco o asciutto, no? In realtà c'è anche la lingua italiana, brava, Zendure. Ma questo è una metà, l'altra metà è questa qui. Si chiama SOPI, quindi due O e due I, esatto. Bella, l'avevo fatti scelta nella colorazione rossa, come piace a me. Qui, vabbè, il solito discorso di contattaci in caso di problemi, non ci sono istruzioni, ma non dovrebbero neanche servire. Ed eccolo qui, fighissimo, e ha una cosa in più. Però per fare questa cosa, vado a collegare lui alla corrente, e prendere il mio portatile, perché lui ha anche il power delivery, perché dà ben 65 watt. Di segnare l'unico difetto, la spia di accensione, anche quando è staccata, rimane accesa. Probabilmente rimane un po' di carica residuo all'interno. Tra l'altro, se la vedete, in trasparenza è fighissimo, perché si vede tutta l'elettronica all'interno. È davvero un bello oggetto, oltretutto. Poi, attenzione, dimenticavo le prese qui, ma ce n'è anche una qui di lato. E quella che interessa a me è quella del power delivery, mentre queste sono senza power delivery. La vado ad attaccare a una presa di corrente, e vi faccio vedere questo cavetto, che ha questa particolarità. Qui ha un piccolo display, che quando lo mettiamo in carica, ci viene indicata quanta carica stiamo erogando. Vedete, 12 watt. Poi se date, effettivamente, vedete, 4, 8, 11, 13, ci dà indicazione in tempo reale di quanta effettivamente stiamo assorbendo dal nostro alimentatore. E giustamente, se vado ad attaccare il mio portatile dell'Acer, la presa USB-C è qui, voilà. Qui ovviamente l'assorbimento sarà maggiore. Infatti, va subito, lo vedete, sui 33 watt. Quindi, per me, due accessori assolutamente imprescindibili per chi viaggia, o lavora, o svago, insomma, bisogna di alimentare tutti i suoi dispositivi. Allora, lo Zendure costa caro, è così bello, così eccessoriato, non lo regalano, costa 79,99. Questo cavetto, che tra l'altro è anche per trasmissione dati, quindi va bene anche scaricare, costa invece soltanto 13,59. E come potete immaginare, è assolutamente estendibile. Come sempre, se vi interessa, link in descrizione. Scatola bella e importante, Zero Y. Un prodotto sviluppato da Ulanzi insieme a Coman. Non ci sono sigilli, quindi apertura abbastanza facile. E subito un bel impatto con quella che è la custodia. In dotazione abbiamo anche la tracolla, quindi penso che sulla custodia, sì, ci sono un paio di asolette su cui andare ad agganciare. Sali essiccanti e in dotazione, così cominciate già a intuire di cosa si tratta, Ma qui lo capite bene, che si tratta di un treppiedi da viaggio, particolarmente compatto e leggero, senza però rinunciare a quella che è la solidità. Istruzione in lingua orientale e in lingua inglese. L'opzione ha anche tre punte di quelle belle, ignoranti. Ma andiamo subito a vederlo. Bella questa parte qui, probabilmente anche per agganciarci delle cose. Scritta in lingua orientale qui, che fa molto figo, vediamo un po' com'è. Allora, ricorda un po' quello di Peak Design, perché ha la sezione che da chiuso diventa praticamente triangolare. Esattamente. Quindi ancora meno ingombro, cioè davvero effettivamente notevole per quanto è ridotto. E' davvero molto bella la testa qui sopra, con una serie di... Ok. Doppia sicura, sembra. Ok. Quindi abbiamo la chiastica, piastra, sgancio rapido. La bolla, doppia sicura. Poi dovrò studiarmi bene come funzionano i meccanismi di sblocco. Un altro sblocco qui. Duro. La testa sfera, quella che si muove a 360 radii, quindi permette di metterla in bolla con maggiore facilità. E' bella tosta. Le gambe, che possono essere inclinate a piacimento. Bello anche questo. Sblocchi tutto in metallo, non è plastica. Qui è carbonio, si sente che non è freddo. Mentre qua è in metallo. Quelli che si aprono, prendendoci mano, tutti insieme e poi si allungano. Molto, molto, molto interessante. Le gambe si aprono. Uh, che colonna centrale molto particolare. La sezione triangolare, che è bloccata. Qui sgancio e si può sollevare. Bene ragazzi, non mi dilungo troppo oltre su questa visione ravvicinata, perché questa devo farvelo vedere con una ripresa più larga. Eccomi qui nello studio 2 per mostrarvi la velocità operativa di questo treppiede da viaggio. Perché sì, lui è leggero, è sempre realizzato in carbonio e alluminio. 1,2 kg. Ma effettivamente, quanto diventa alto, lui arriva ben a 6 sezioni. 5 per le gambe, che vedete sto aprendo con un'ottima rapidità. E 6 considerando la colonna centrale. Aperto due gambe. Apriamo anche la terza. Gli agganci sono effettivamente molto veloci. E andiamo anche a sbloccare la colonna centrale. Sbagliato leva, non è questa, ma quest'altra, sì. Colonna centrale che poi, volendo, sotto ha una chicca, ovvero ha una piccola brugola. Ci servirà tra poco. Ma una volta rimossa la brugola, potremo anche sfilare del tutto la colonna centrale. Così abbiamo anche un selfie stick a portata di mano, ma abbiamo la possibilità di invertire la colonna per delle riprese con angolazioni particolari. Ma adesso andiamo a prendere la piastra di sgancio rapido e la vado a montare su una fotocamera della mia collezione decisamente non leggera. Topcon Orseman VHR. Una field camera, quindi un mini banco ottico, tutto metallo, vecchio stile. Quindi leggerezza, no signore, qui stiamo davvero su un bel peso. Fissata la piastra, andiamo a agganciarla e fissarla. E proviamo a utilizzare, Mari, un'angolazione un po' esagerata, cioè tipo selfie di lato e lasciamo. Ragazzi, solidità da vendere. Cioè, pur essendo un cavelletto da 1,2 kg, sta reggendo sopra un peso che saremo sui 2-3 kg e lo sta reggendo senza alcun problema. Lui però purtroppo tutte queste soluzioni tecniche, tutte queste caratteristiche le fa pagare care. Comunque costa 349 euro. Se volete uno dei migliori treppiedi da viaggio e circolazione, link come sempre in descrizione. Torniamo a parlare di microfoni, i microfoni per utilizzarli con il nostro smartphone, della Holy Land Ilark C1. Nell'ultimo video che ho fatto per la Fujifilm X-T5, la maggior parte delle riprese le ho fatte col mio Google Pixel 7, utilizzando microfoni integrati che non vanno male. Però tipo quando eravamo in due a parlare all'inizio, io e Fabio Porta insieme, o quando lo utilizzavo da solo e lo ruotavo un po' davanti a me, un po' verso me, l'audio in fase di montaggio dovuto aggiustarlo perché il volume andava e veniva, perché l'intelligenza artificiale cerca di decidere se l'audio è davanti e dietro, ma se noi lo parliamo rapidamente, insomma, non riesce a fare miracoli. Potrei utilizzare, io già utilizzo dei Lark, i 150, però andare a mettere questa ricevente sul cellulare, serve una staffa apposita, c'è il cavetto, serve l'adattatore per il cavetto, si perde decisamente di praticità. Volevo una soluzione giustamente più smart e questa dovrebbe esserla. Oh, carina, anzitutto la custodia. Tutto qui dentro, bella, tutta in tessuto, con un bel accettino, mi piace davvero. E dentro abbiamo, oh, i poveri, poveri, gattini morti. Lo leviamo un attimo. Che dovrebbero essere due, perché questa è la versione con due trasmittenti, quindi ideali per situazioni in cui stiamo facendo un'intervista, oppure stiamo insieme a un amico e vogliamo che anche lui possa parlare. Questo è il dispositivo principale. Mamma, se sono piccoli, ragazzi. Cioè, non so se si venite conto. Allora, questa è la trasmittente, sì, con qui la capsula microfonica, che sembra che sia aperta sia in avanti e sia leggermente sui lati, quindi dovrebbe essere, c'è un'altra pellicolina da togliere, sì, e questa è la griglia infatti rivolta verso l'alto. Una e due. Quindi qui abbiamo le due trasmittenti e questa dovrebbe essere la ricevente. Attenzione, quando andate a comprare, perché esiste la ricevente, anche qui c'è una pellicolina da rimuovere, sì, pellicolina, vi dicevo, la ricevente esiste con la versione USB-C adatta a me e con la versione con Lightning, quindi utilizzarle su dispositivi della mela mozzicata. Che altro abbiamo in dotazione? Un po' di libricini, di istruzioni. Noi siamo qui per te, carino, anche come slogan, quindi questo dovrebbe essere per il supporto. Questo è il libricino di istruzioni che è in lingua inglese, solo inglese, sì, quindi diventa la versione europea, e un cavetto USB-C classico per andare a ricaricare la base, che fa ovviamente anche da base da ricarica. Adesso la collego, vi faccio sentire un attimo com'è il suono. Questa è la mia voce, ripresa direttamente dai microfoni interati nel mio Google Pixel 7, ma... Invece questa è la mia voce utilizzando questo piccolissimo microfono della Holy Land. Sentite l'audio, ma adesso voglio far vedere due dettagli di come funziona sia la ricevente, sia l'app. Quello che vedete qui adesso è l'app dedicata, vedete infatti come mi permette di vedere sia il livello della mia voce, e posso regolare la sensibilità su sei livelli, da uno effettivamente a sei. Riesco a vedere lo stato di tutte e due le trasmittenti, qua anche la percentuale di carica, il TX1 al 71%, il TX2 all'82%. Sulla trasmittente c'è anche il sistema di riduzione rumore che si attiva con un tasto, quando è blu è disattivato, quando è verde è attivato. E' tutto fatto dannatamente bene. Appena prendo e vado ad inserire uno del trasmittente, praticamente nella custodia, mi dice 0% TX2 device is offline. E anche sulla parte hardware vedete che una spia lampeggia, che vuol dire che il TX2 in questo momento è scollegato. Funziona tutto molto molto bene. Una cosa da dirvi che vi potrà servire, se abbiamo anche la riduzione del rumore, che possiamo scegliere anche qui se essere leggera oppure forte, vi consiglio leggera, rendere la voce con una dinamica più interessante, e lo speaker play. Perché spesso quando si utilizza un microfono esterno, che succede quando andiamo in play, l'audio non funziona. Qui possiamo mantenere l'audio in riproduzione, senza dover attaccare e staccare ogni volta la ricevente. Ultima cosa che vi dico, perché è importante saperla, quando andate su alcuni dispositivi, tipo sul mio Google Pixel 7, a riprendere video, attenzione ad attivare il microfono, che di default, anche se c'è un microfono esterno collegato, lo utilizza il microfono interato, dovremmo mettere wired mic. E con questo ragazzi funziona tutto bene. Il tutto purtroppo però costicchia un po'. È una novità, è una soluzione effettivamente all'avanguardia, costa 225 euro. Se vi interessa, link in descrizione. Torniamo a parlare di make, torniamo a parlare di aperture folli F095, un 35 mm ovviamente a fuoco manuale, per micro 4 terzi, si capisce qui, 4 MFT Mount. Andiamo ad aprire la confezione, con il sigillo qui in alto, ok. Il fogliettino sempre di garanzia, ok, lasciamo da parte, e subito lui, senza tante altre manfrine, senza istruzioni, senza altro, l'ottica semplice. Un gran bel tocco di metallo, decisamente vecchia scuola, qui l'innesto, punto micro 4 terzi, indicato chiaramente dalla scritta qui in alto, il numero di serie e il pallino, e qua sopra la generosa, anzi, leviamo i tappi così vedete meglio, lente frontale, il diametro da 52, la minima distanza di messa a fuoco è a 39 cm, questa è la ghiera di messa a fuoco, molto, molto piacevole, molto fluida, no, questa è la ghiera dei diaframmi, eh sì ragazzi, scusate che state già nella cavolata, e ve lo faccio anche vedere, mentre la ghiera di messa a fuoco è quest'altra con la scala delle distanze, punto distanza mia messa a fuoco, 0,39, arriviamo fino a infinito, ma magari se noi ci collochiamo a un metro, a F16, che è tutto chiuso, avremo fuoco praticamente, da 0,6, da 60 cm, fino praticamente a 2,5 m, insomma, adesso andiamo a prenderlo, e metterlo sulla mia gh5s, che si trova qui sopra, devo staccarla un attimo, ecco qui il make montato, sulla mia panasonic gh5s, un 35 che ovviamente, essendo sui micro 4 terzi, diventa un 70 mm equivalente, dico subito, la corsa della messa a fuoco, è morbida e frizionata al punto giusto, ma un 70 mm F095, da mettere a fuoco in maniera manuale, è un vero delirio, vi mostro un ritratto, fatto ad Agnese, ovviamente e rigorosamente, a tutta apertura, e vi dico che è stato dannatamente difficile, e secondo me la messa a fuoco, non è anche del tutto perfetta, ma è un oggetto, che per fare anche delle foto, con un bokeh incredibile, su un micro 4 terzi, e anche nel video, si riescono ad ottenere belli effetti, anche con il diaframma, magari che possiamo chiudere, o aprire, per delle variazioni di luce, bellissime, essendo fluidi, insomma, è un'ottica molto interessante, il prezzo, come sempre per la make, è umano, in quanto costa soltanto 279, euro, come sempre se vi interessa, link in descrizione. Proseguiamo con un grande ritorno, qui a me sul canale, c'è i prodotti della Insta360, con la action cam a 360 radi, ma la terza evoluzione, quella la cui paratteristica più di spicco, è il display super generoso, andiamo a togliere la pellicolina, e subito, beh, wow, sì, decisamente un bel impatto visivo, con quella che ha la sua caratteristica di spicco, e intanto andiamo a spellicolare, ovvero il super mega display. le due cam, quella frontale, quella posteriore, anche qui tolte le pellicoline, c'è un'altra pellicolina qui, che ci ricorda di fare attenzione, a quella che è la batteria, che la tenuta stagna, è mantenuta con determinate condizioni, andiamo un po' a vedere se c'è un minimo di carica residual, qualsiasi signori, si sta accendendo e avviando, e mentre si avvia, dopo faccio la configurazione, faccio vedere la bella differenza, tra quella vecchia, qui nella mia mano destra, e quella nuova, la vedete dal display, qui non mi ricordo se c'è un minimo di carica residual, si c'è, qui si faccia vedere quanto era piccolo, si carino il display circolare, ma onestamente un po' troppo piccolo, ok, c'è di scaricare l'app, ma vedete l'effetto dell'inquadratura della mia scrivania, con il display minuscolo e con il display generoso, infatti lo utilizzerò per fare delle riprese in soggettiva, molto particolari, a gennaio, mi raccomando ragazzi, sempre l'iscrizione, nel mi piace, la campanellina per sostenere questo canale, e apprezzo dei tasti belli evidenti qui sotto, ma per adesso la spegniamo, che poi andrò a configurare con calma, vediamo cos'altro c'è nella scatola, allora, qui dentro c'è il classico cavetto USB di tipo C, lista 360 di bello l'attacco per cavalletto sotto, semplice semplice, poi se non sbaglio questa è la batteria, esattamente, questo vano qui è per l'USB di tipo C, poi dotazione, se questo l'ho sempre apprezzato, dista, a parte la busta, la custodia morbida, dove andarla a inserire, c'è di carino che c'è un'apertura laterale, a cosa corrisponderebbe quell'apertura laterale? forse per mantenerlo in carica? beh sì, volendo, messo con l'ottica in giù, come è anche giusto, sì sì, corrisponde a questa bella, si può mettere in carica, quindi mentre dentro la custodia, poi per il resto abbiamo vani manualetti, abbiamo gli adesivi, che fanno piacere, e anche questa è una cosa carina, che andrò come sempre a discutere, quanto odio questo tipo di bustine, c'è anche la salvietta, il panno personalizzato, per andare a pulire, adesso mi studio un attimo, dove ho messo la scheda di memoria, lo metto in carica, e poi vi faccio vedere una ripresa, infatti è qui che sto registrando, con questa ISTA 360 X3, mi state anche ascoltando, con i microfoni interati, e posso farvi fare anche un giro nel mio studio, per darvi un'idea di più o meno, quella è la situazione, e il disordine in cui normalmente, sono infatti, mentre sto lavorando, sui fuori dalle scatole, un aggino fantastico, per avere dei punti di vista, davvero eccezionali, con cui farò un video, molto particolare, nel 2023, come dicevo prima, se vi interessa come sempre, il link qui sotto in descrizione, lui ad oggi costa 539,99, ovviamente se ci sono poi le offerte, il canale di Telegram, sempre qui sotto, è per voi. Microfoni di SmallRig, però microfoni doppi, quindi due trasmittenti, e una ricevente, tutti con il display, questa è la caratteristica di spicco, di questo sistema. Andiamo come sempre, a rimuovere la pellicola, per accedere. Allora, c'è un'indicazione qui per aprire, open, sì, carina questa cosa, molto premium, vedete c'è una linguettina bianca, che noi prendiamo, e tiriamo fuori, wow, confezione bella grande, microfoni wireless, e questo, lingottone, che subito vediamo, una bella soluzione, ovvero, il cavetto per la ricarica, qui c'è scritto up, up come, ah, semplicemente up così, il cavetto per la ricarica, è integrato. Soluzione particolare, non bellissima, dal punto di vista esterico, ogni volta dobbiamo stare a rimetterlo, nella canalina, però sicuramente funzionale. Qui c'è uno spazio, per mettere il dentino, qui c'è comunque, un altro ingresso usb, quindi possiamo anche, evitare quello, e qui abbiamo tutto l'ambaradan, quindi la ricevente, dove ci sarà un minimo di carica, sembra proprio di, tutto da mettere a caricare, e le due riceventi, ricevente numero uno, anche questa vediamo se c'è un po' di carica, con una pressione lunga, no, qui c'è, perché comparsa la scritta, smorrig, e anche rileva la mia voce, non è che c'è un tasto di accensione laterale, signor, sì signori, ed eccolo che si accende anche questo, display a colori, e vediamo un po', sì, sta già rilevando che la ricevente, la trasmittente B, eccola che viene rilevata, a questo punto accendiamo anche quest'altro, smorrig, anche qui viene rilevata la mia voce, ci viene data indicazione dello stato di carica, e sì, come vedete, tutte le barre si stanno muovendo, e posso giustamente regolare i livelli di ognuno dei canali, bello anche il ticchettio che c'è, il cambio delle modalità, se lo voglio in mono, permette di farlo, pressione lunga, insomma, c'è da studiarsi un attimo le istruzioni, giustamente, le istruzioni, andiamo a riposizionare tutto, nei suoi vani, che sono magnetici, quindi vedete, non cadono, e ce l'appoggio, stanno dentro, ok, cos'altro abbiamo in dotazione, packaging fatto molto bene, molto curato, bello che c'è anche questa, sacchetta, pochette, su cui penso collocare tutto, quindi sia lui, volendo, sia quelli che sono gli accessori, che adesso andiamo a vedere, alleghiamo leggermente l'inquadratura, come sono messi? Oh, una serie di scatoline a parte, allora, c'è una batteria, quelle a bottone? No, non è una batteria a bottone, questa dovrebbe essere, una cosa geniale, ma ci dovrebbero stare due, forse messa anche qua, vediamo un po', ecco infatti il secondo, e altre due cose, allora, vi spiego, queste sono una piccola genialata, andiamo a riprendere quelli che sono, i trasmettitori, se noi vogliamo nasconderli, sotto i vestiti, li possiamo mettere all'interno, e all'esterno, questa è una banalissima calamita, che può essere nera, con la scritta smorrig, no, per forza al lato nero, io magari qui, facendo una cattiveria smorrig, ci metterei sopra un altro adesivo nero, oppure semplicemente, col pennarello andrei a scorrere, quindi si crea questo effetto, il nostro intervistato ha un maglione, noi mettiamo qui la calamita, e vedete, la trasmittente, che magari andremo a puntare verso l'alto, resta fissata, grazie alla presenza della calamita, questa è effettivamente una piccola genialata, poi abbiamo anche i soliti gattini, i dead cat, come si fissano, ok, hanno un occhiello, che non tiene benissimo, o sono io che non l'ho fissato bene, sono io che non l'ho fissato bene, vanno messi, e vanno poi ruotati, e una volta messi ruotati, vedete, non cade, sta su, lo riruoto, e viene via, tutto ottimo, qui c'è l'altra calamita, che ha fatto presa, poi, nei sacchetti, che io solitamente distruggo, infatti, cavetto di ricarica, USB C, USB di tipo B, e giustamente mancano soltanto, i cavi di segnale, ce ne sono due coppie, vedo, uno di colore rosso, con i tre contatti, quindi ad uso per fotocamere, in particolare, come sono fatti i spinotti, e uno invece, con quattro contatti, e c'è anche scritto, for phone, quindi per l'utilizzo, c'è anche il disegnino, dello smartphone, si vede, si qui, per l'utilizzo mobile, perché, giustamente, su quella che è la trasmittente, abbiamo la possibilità, di avere, la cuffia, l'uscita cuffia, avremo l'utraggio, l'uscita per il segnale, e l'ingresso USB, anche per alimentarli, a parte, mentre, sulle, quelle che sono, le trasmittenti, abbiamo, accensione, il tasto, per attivare, protezione del rumore, e l'abbinamento, anche qui, preso USB, per la ricarica, e ovviamente, possiamo averci un ingresso, per un microfono esterno, tipo la valie, che non sono in dotazione, ma adesso, ricarico, collego tutto, e vi faccio sentire, come l'audio, eccoci qui, stiamo registrando, infatti, vedete la mia voce, si, mi state ascoltando, tramite i microfoni, a smorrig, con il cavo, tirato a morte, infatti, adesso, lo lascio con delicatezza, e l'appoggio, sopra la mia, GH5, per tornare, di scossoni, per farvi vedere, l'unica cosa, che effettivamente, non mi ha convinto, al mille, il fatto, che vedete, questa è la seconda, trasmittente, è col display spento, ma in realtà, è attivo, con sola pressione, riattiviamo, e se vedete bene, spero di sì, il microfono è barrato, vuol dire che è in mute, per riattivarlo, un'altra pressione, sul tasto di accensione, e ragazzi, è un po' troppo facile, perché ripremendo così, l'ho rimesso in mute, stesso discorso, se vuoi mettere il filtro, riduzione del rumore, una pressione si attiva, una pressione si disattiva, quindi potrebbe essere, un po' rognoso, che appunto, messo addosso, un intervistato, che per sbaglio, sbatte sui tasti, qui di lato, sì, una volta che è spento, magari non succede nulla, perché devi fare due pressioni, ma se è acceso, vedete una toccata, sia da attivo, a disattivo, tutto il resto funziona molto bene, l'audio lo state sentendo, a confronto con i Rode, che utilizzo di sempre, se vi interessa, costano 227,90€, come sempre, link in descrizione. Scatolora di Small Rig, insomma, abbastanza autoesplicativa, il treppiede in carbonio, il modello, l'AP20, allora, apertura semplice, perché non ci sono sigilli, e all'interno c'è una custodia, bella tosta, non c'è nient'altro, nella scatola, solito slogan di Small Rig, Small Rig Big Dream, ok, andiamo ad aprire la sacca, ed eccolo qui, c'è una bustina, con un po' di accessori, in cui troviamo un paio di brugoline, che sono sempre utili e gradite, e il libricino di istruzioni, che saranno come sempre, in lingua inglese, questa parte, e in lingua orientale, sul retro, ma andiamo a vedere lui, oddio, alcuni dettagli, sono un po', decisamente plasticosi, sì, in plastica, lo snodo, le gambe si dovrebbero aprire, in questo modo, sì, snodi, un po' duretti, magari saranno da allentare, anche questo, un po' duretto, e questa, dovrebbe essere, la gamba rimovibile, esatto, perché ha di comodo, che potremmo utilizzare, una gamba da sola, questa, in particolare, diventando, un monopiede, per tutti gli utilizzi, che servono, apriamo anche, la terza gamba, col classico meccanismo, a cricchetto, quindi potremmo, regolare l'inclinazione, su più posizioni, tramite questo, meccanismo, qui, la colonna centrale, a meno questa parte qui, è uno sblocco, in alluminio, può scendere giù, ops, ho dato, un bel colpo, sfera classica, quindi, con questa manopola, sblocchiamo, ovviamente, di rotazione, con quest'altra parte, sblocchiamo, la sfera, che può anche essere messa, del tutto in giù, e con quest'altra manopola, andiamo a sbloccare, la piastra di sgancio rapido, su cui non troviamo, le finezze, dell'altro modello video, che avevo provato, in un altro fuori dalle scatole, in cui magari, le brugole, erano inserite, nella piastra, quella più lunga, quindi, leggermente, più basico, ma per farvi capire bene, come ho fatto, allarghiamo un attimo, l'inquadratura, che è meglio, rieccomi anche qui, per mostrarvi, la velocità operativa, invece, di quest'altro, small rig, ok, ho lanciato, i sali dissiccanti, lo vado, aprire e posizionare, dovrebbe essere questa, l'inclinazione giusta, quindi, uno, due, tre gambe aperte, gli sblocchi, sono di meno, qui abbiamo, quattro sezioni, per le gambe, e una sezione, ovviamente, è la colonna centrale, a ganci di plastica, hanno un fill, magari, non eccezionale, però, effettivamente, sto vedendo, che quando bloccano, le gambe, comunque, sono ben bloccate, dice, la colonna centrale, ha, due prolunghi, quindi, effettivamente, anche questo, è un bel cavalletto, bello alto, qua sopra, la classica, testa a sfera, con la sfera, che può essere sbloccata, e con la classica, piastra, anche qui, stile, arca, né più, né meno, qui ce l'abbiamo, una brugolina, per fissare tutto, no, quindi, dovrò fare tutto, con il vecchio sistema, ovvero, o la manina, o una monetina, ma dovrebbe bastare la manina, sì, ok, e blocchiamo, anche qui, andiamo a inserire, e bloccare, bene, ok, e già vediamo, che un po' di, opla, eh sì, la testa a sfera, aveva ceduto, un po' di ondeggiamenti, ci sono, ma neanche poco, anche qui, vado a fare, una ripresa, esagerata, quasi in modalità, selfie, ma insomma, un po' di ondeggiamenti, ci sono, ma lui, effettivamente, è molto più economico, di quello, ho fatto vedere prima, lui costa, 179 euro, se volete, comunque, un cavalletto, in carbonio, da viaggio, leggero, e mediamente, compatto, può essere un'ottima scelta, se vi interessa, il link qui sotto, in descrizione, ok, scatola bianca, scatola bella, grande, per un monitor, della Wimaxit, da 14 pollici, con tanto, di supportino, andiamo ad aprire, subito, i due sigilli, che troviamo, qui dietro, con la lama giusta, che è questa qui, un sigillo, due sigilli, ok, effetto ventosa, ai massimi livelli, e si vede, poi, della cornice, riportato, che comunque, è un full hd, con un pannello, di tipo, IPS, la confezione, è così, no, bello, ci danno in dotazione, una pellicola protettiva, da applicare, però forse, ne è una in più, mamma quanto è leggero, quindi, sicuramente, non è a batteria, no, la pellicola non è applicata, quindi, è una scelta, che sta a noi, e dovrebbe avere, di particolare, esattamente questo, questo bel telaio, in alluminio, con il supporto, integrato, sul cui supporto, troviamo anche, le connessioni, abbiamo, l'HDMI, purtroppo, di quello piccolo, il micro, due USB-C, da quest'altra parte, abbiamo, l'uscita, cuffie, sì, il controllo, penso per il menu, che è una levetta, schiacciabile, e il tastino, uscita, c'è un tasto, di accensione, se c'è, forse, semplicemente, appena gli diamo, alimentazione, vediamo, cos'altro viene dato, in dotazione, beh, caspita, bella dotazione, innanzitutto, il libricino, di istruzioni, che vedo, l'inglese, il francese, abbiamo, il tetezco, lingua orientale, l'italiano, proprio no, sembra di no, ma non penso, che sia un problema, il panno, per la pulizia, il talloncino, di controllo qualità, il fogliettino, ci ringrazia, poi, cavetti in dotazione, di buona qualità, li vedo già, con connettori dorati, USB-C, ambo i lati, questo invece, è, USB-C, USB, di tipo B, e infine, il classico, HDMI, giustamente, da micro, quindi, lato monitor, con tanto di protezioni, a HDMI standard, per collegarlo, magari, alla GH5S, se lo facciamo subito, che sta riprendendo, cosa che apprezzo, è che, l'alimentatore, in dotazione, c'è, che è da 10W, 5V, su 2A, adesso, lo colleghiamo, e vediamo come va, eccolo qui, collegato, e funzionante, e attenzione, l'HDMI, mi sono sbagliato, non è del tipo micro, del tipo mini, e soprattutto, è corto, quindi, non ho potuto collegarlo, col mio PC, desktop, che è sulla mia sinistra, che è troppo lontano, ho potuto mettere il portatile, proprio vicino, quindi, servirà sicuramente, comprare un cavo più lungo, per utilizzarlo, realmente, però, funziona molto bene, ha una bellissima resa, è un ottimo IPS, e, oltretutto, sì, è touch, tipo, se vuoi andare, prima una cartella, due tocchi, posso scorrere tranquillamente, prendere un'immagine, tipo, il signor Franz, doppio tocco, le andiamo a vedere, in grande, e giustamente, con il touch, ce lo possiamo gestire, infatti, la mia idea, è che ne dite, se utilizzassi questo, per farci un player, con volumio, basato su Raspberry, insomma, quelli di voi, che mi seguite, per l'audio, se vi interessa, link qui sotto, però, se vi serve, un secondo monitor, magari anche per giocarci, come lo so, con la Nintendo Switch, oppure, magari, per avere un monitor da campo, ma davvero grande, davvero con un bel contrasto, assolutamente consigliato, lui costa 199 euro, salvo sconti, vi ricordo che in descrizione, trovate il link, sia a lui, sia al canale Telegram, dove si ci sono offerte, ve lo segnalo, sempre, qui sotto. Passiamo, a uno smartphone, della Cubot, il P60, che ho scelto, per portarmi, in un viaggio, come muletto, e utilizzarlo, anche, come hotspot, andiamo ad aprire, la plastichina, qui si vedono, già la caratteristica, ha uno schermo, praticamente, da 6,5 pollici, HD+, ha una fotocamera, da 20 megapixel, con messa a fuoco, di fase, una fotocamera frontale, da 8 megapixel, il processore, un MT67, 2765, batteria, da 5000 mAh, powered by Android, ma andiamo a vedere, la confezione, ok, fogliettino, che ci ringrazia, bene, mi fa sempre piacere, di queste aziende, che la custodia, semplice, trasparente, protettiva, però, è fornita, in dotazione, anche questa è una cosa, che apprezzo, e, bellino, però ragazzi, il design, lo vedete, cangiante, rispetto e colore, tutti questi disegnini, io levo sempre, subito, l'etichetta dietro, proprio perché, mi rovina, l'impatto estetico, notevole, il comparto fotografico, ci faccio adesso, subito, delle prove, andiamo a togliere, anche la prima, pellicolina, mentre c'è la seconda, che invece, non vado, di certo, a rimuovere, questa, quella, con le cover, che si aprono, no, c'è il carrellino, quindi, non ha la batteria, rimovibile, cos'altro abbiamo, dotazione, tanta bella, carta, con una guida, di avvio, rapido, in tante lingue, ma c'è anche l'italiano, benvenuto, avvertimento, ok, dotazione, abbiamo, l'alimentatore, che fa piacere, che è da, 10 watt, 5 volte su 2 ampere, quindi, niente di che, abbiamo, gli auricolari, stile airpods, che io non, utilizzerò, perché questi, comunque a me, purtroppo, cadono, però, 100 attenzione, e un cavetto usb, c'è, oltre, lo spillino, spillino, che devo dire, colpisce, il fatto, che, l'è bellino, non è la classica, semplice, placchetta di metallo, ma c'è anche una parte dietro, in plastica nera, adesso, lo vado a caricare, e poi, faccio vedere, magari, l'utilizzo che ne farò, e qualche foto di prova, allora, preso, configurato, si comporta molto bene, c'ho già insettito dentro, una sim solo dati, utilizzare comunque, principalmente, come muletto, e come hotspot, vi dico che, funziona molto bene, tutta l'operatività è scorrevole, il display è anche piacevole, forse l'unica cosa, un po' triste, è proprio, la fotocamera, state vedendo, una unità selfie, lei è la mia Panasonic, e vi faccio vedere, in grandito risultati, questa è la fotocamera selfie, e questa è l'unica, fotocamera posteriore, con quella, che è la mia bella, Agnese, se effettivamente, qui dietro, ha un, sembrano un mare di fotocamera, in realtà, questa è la fotocamera, questo è il led, questo è il sensore, probabilmente, per la profondità, tutto qui, né più, né meno, però effettivamente, utilizzandolo come hotspot, lo vedete che, già attivo, c'è un dispositivo collegato, che è il mio portatile dell'Acer, vado adesso a cercare l'ora esatta, e vedete, risponde subito, bene, sono 19.20, insomma, per quello che mi serve, il risultato c'è, per quello che riguarda, invece, il discorso del prezzo, lui costa 159,99, quindi molto, molto economico, se vi serve un muletto, oppure un hotspot, che comunque, possa fare anche di più, che da hotspot, è interessante, come sempre, link in descrizione, ragazzi, ci fermiamo qui, perché vi devo chiedere scusa, intendiamoci, non tanto scusa, per la durata, di questo episodio, di fuori dalle scatole, sì, sono più di 47 minuti, ma è giusto, che sia così, perché sono tanti prodotti, presentato, e per ognuno di loro, ho voluto mostrarvi, davanti ai vostri occhi, la loro effettiva, funzione, vi devo chiedere scusa, perché questo è il primo episodio, di fuori dalle scatole, in cui non sono uscito, a portarvi neanche un solo prodotto, dedicato all'ascolto, sì, vi ho mostrato dei prodotti, che io utilizzerò in viaggio, dei prodotti che utilizzerò, per fare delle riprese, sempre più fighe, o dei prodotti, per avere l'audio, sempre più figo, ma purtroppo, niente per l'ascolto, ma, la prossima settimana, ci saranno uno, ma ben due, video dedicati, a due prodotti, per me assolutamente inediti, o meglio, il primo inedito, il secondo, non inedito, ma stranissimo, che ho faticato tantissimo, a trovare, e l'ho provato, una situazione, per me quella sì, davvero inedita, spero di avervi messo, tanta bella curiosità, per la prossima settimana, e intanto, spero di avervi dato, tante belle idee, per fare, tanti, bei regali, di Natale, e quindi, ragazzi, vi ringrazio, per essere arrivati, fino alla fine, di questo lunghissimo video, ciao a tutti, e al prossimo. Grazie.